A Via dei Faggi a gettare un oggetto ingombrante, un divano, alla siderurgica Tiburtina. Questa è Via dei Faggi, ecco lì vediamo già l'addetto che ci sta aspettando, abbiamo già parlato, quindi qui in collaborazione con il comune di Guidonia l'ambiente e il decoro urbano per gettare grandi rifiuti, diciamo, i rifiuti ingombranti.